... Benvenuti su Zoom Approfondimento. Ci troviamo nel centro di Dicomano per l'appuntamento che si rinnova come ogni anno con la fiera d'ottobre. La fiera che porta con sé i prodotti tipici dell'autunno, i prodotti tipici del territorio, ma non solo. Abbiamo cibo per ogni gusto, anche internazionale. Abbiamo inoltre animazione, folklore. Insomma, di tutto e di più. Sindaco, è tornata la fiera d'ottobre che è anche un modo per valorizzare le tradizioni e i prodotti tipici di questo territorio. Assolutamente. La fiera d'ottobre per noi è una bella vetrina dei nostri prodotti. Quest'anno è molto arricchita, dai giochi interattivi come la caccia al tesoro digitale fino a tutti i prodotti classici del nostro territorio. dal vino, dalle castagne, le noci e tutti i prodotti della nostra terra. Insomma, è una bella occasione per mettere in mostra quello che di meglio sappiamo fare da noi. Ci sono delle novità quest'anno? Beh sì, abbiamo ospitato un po' di stand internazionali di cibo, quindi dei food track, con lo stand argentino, messicano, lo stand spagnolo, quello indiano. E fino ai prodotti tipici della Toscana, abbiamo il presidio slow food dei testaroli e molti altri cibi delle nostre zone, quindi di pesce. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti, non ci sono scuse per non venire. Prospettive future di questa manifestazione che ogni anno va ingrandendosi? Beh, questo è lo scopo nostro, quello di promuovere il territorio, per cui ogni anno aggiungiamo un piccolo pezzo, domani ci sarà una bella mostra di tante artigiane del nostro territorio, quindi l'obiettivo è quello di aumentare ogni volta un piccolo passo in avanti per promuovere non solo i prodotti enogastronomici, che sono molti, ma anche quello che sappiamo fare in termini di artigianato. C'è parecchio afflusso? Beh sì, ora siamo ancora all'inizio, ma insomma le prospettive sono molto buone, il tempo è stato molto clemente, a differenza degli altri anni, quindi ci aspettiamo davvero tanta gente, siamo molto soddisfatti. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Fiera d'Ottobre, ce ne parla il Vice Presidente del Comitato del Carnevale di Dicomano. Sì, anche quest'anno abbiamo partecipato come Comitato del Carnevale alla Fiera di Dicomano, diciamo anche con grande successo, visto il sabato e anche il tempo che ci ha assistito. Poi domani credo ci sarà un programma un po' più particolare per la Fiera. Noi siamo in Comitato del Carnevale di Dicomano, organizziamo anche il Carnevale, il nostro è proprio quello di organizzare il Carnevale, quindi le sfilate, e naturalmente si dà una mano anche al resto del Paese per organizzare la Fiera e per organizzare questi eventi. Noi siamo qui, si fa la polenta, si fa le frittelle, i bomboloni, i cenci, quello che ormai è tradizione che si fa durante le feste e anche durante le sfilate del Carnevale. Con le ricette tipiche della tradizione? Sì, con le ricette tipiche, finché ci durano queste donne riescano ancora a farle, si va avanti così. Anche grazie ai prodotti del territorio, un territorio che in prodotti offre molto. Grazie, non si fa la polenta o la farina di forno grifoni, e quindi si cerca di fare, diciamo, di adoperare poi le castagne. Questa mattina ci hanno portato proprio, visto il temporale di er sera, alcuni hanno raccolto marroni, si fa rifiutare anche le bruciate e poi si sono anche venduti un po' di marroni. Quindi anche questo, sai, la fiera a volte, una volta veniva chiamata la fiera dei marroni, però quest'anno marroni non c'erano. Proprio perché qua abbiamo questo marrone pregiato, un marrone IGP. Diciamo, la nostra zona è una delle zone dove il marrone è di ottima qualità. E chiaramente, sai, dipende dal tempo, questo è poi la stagione. Comunque, noi abbiamo trovato un po' di marroni e siamo riusciti a fare bruciate. Oltre ai prodotti tipici del territorio, quest'anno in fiera abbiamo proprio cibo per ogni gusto, abbiamo anche cibo internazionale. Visto, ci sono degli stand messicani, spagnoli, argentini, quindi sta prendendo una piega un po' a livello caserecci, un po' internazionale. Quindi, secondo me, è ben organizzata per adesso. Quali sono i prossimi eventi che organizzerete? Per quanto riguarda noi, come il Comitato del Carnevale, il nostro evento ora più importante è il Carnevale, quindi noi partiremo a dicembre a costruire carri, come tutti gli anni, e poi nelle prime domeniche, la prima domenica credo sia l'ultima di gennaio, quest'anno il Carnevale è molto basso, speriamo il tempo si assista, perché, insomma, per noi è importante. Torna anche quest'anno a Dicomano l'appuntamento con la Fiera di Ottobre, che si svolge nel Centro Storico. Prodotti dell'autunno e produzioni locali, folklore, street food con specialità e cibo di ogni gusto, anche internazionale, argentino, spagnolo, messicano e indiano, vino d'ocche di qualità, antichi mestieri in mostra, sfilata del corteo storico dicomanese e sbandieratori della signoria, artisti di strada, giochi e animazione, sono gli ingredienti di questa manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, che si snoda per Piazza Buonamici, Via Dante Alighieri e Piazza della Repubblica. Ospite d'onore la delegazione della cittadina tedesca di Grosso Umstad, gemellata col Comune Mugellano. Nei due giorni della fiera troviamo mercato contadino e dei produttori di garanzia partecipata, giostre e giochi per bambini, stand con degustazione e vendita di prodotti locali, 12 punti street food con cibo locale e internazionale, commercianti in fiera. Ci sono giochi come caccia al tesoro digitale, artisti di strada e giochi per bambini, birra a caduta e patatine fritte, rum e cioccolata, degustazioni in chianti classico, di prosecco e vini bianchi. Presenti anche le artigiane di Carmignano con Io Creo, mentre per le vie del paese c'è la sfilata del corteo storico di Dicomano e gli altri cortei, esibizione degli sbandieratori della signoria, artisti di strada, giochi per bambini, esibizione dell'orchestra spettacolo Sarabanda, oltre a birra a caduta e degustazioni di vini. Ci sono anche giochi, intrattenimento, organizzati in questo caso da Enigma Live Game. Cosa avete organizzato? Sì, una caccia al tesoro, diciamo interattiva per tutti quanti, per ragazzi, per bambini, in cui si deve cercare tramite il proprio smartphone dell'indizio a giro per Dicomano e l'obiettivo è quello di arrivare a cercare il tesoro, quindi tornare qui e fare più punti di tutti gli altri. Hanno aderito in tanti? Sono quasi 60 persone, con molte famiglie, molte squadre di tante famiglie e tanti bambini. È anche un modo per riunire i più grandi, i più piccoli, accumulare tutti, insomma? Sì, 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 un po' tutti quanti, anche perché è rivolto a tutti quanti, specialmente alle famiglie con i bambini, perché magari si divertono di più. Dietro di noi vediamo dei bambini all'opera che stanno giocando, si stanno divertendo in questo salotto composto da materiali recuperati. Sì. Ci spieghi cosa stanno giocando, cosa stanno facendo? Stanno giocando, stanno giocando con materiali di recupero che noi portiamo, recuperiamo in giro di tutto, insomma, dalle stoffe al legno, cera d'api, argilla, e loro poi sperimentano liberamente. Cosa sperimentano? Costruiscono? Si travestono? Si travestono, costruiscono, sì. Disegnano anche? Disegnano, sì, sì, sì. Tutto quello che trovano, loro, i bimbi, no? Come abbiamo fatto tutti quanti, si divertono a incontrarlo e a farci quello che gli piace, che gli ispira, ognuno a modo suo. Chi è che sta seguendo questi giochi? Siamo tutti quanti genitori, genitori di questo mercato, di questo gruppo di famiglie, e quindi seguiamo i nostri figli e anche i figli degli altri, insomma, insieme. Un momento per stare tutti insieme? Sì, 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 sì. Far vedere quello che viene fatto, che produciamo, insomma, l'atteggiamento che ci sta dietro, insomma, un po' la filosofia che c'è dietro. La filosofia del recupero, appunto. Rispetto ai giochi, sì, anche del recupero, sì. È anche una filosofia, un approccio con i bambini che è non restrittivo, insomma, ma li accompagniamo nel loro gioco, li seguiamo in quello che fanno, li stimoliamo con delle cose, con delle proposte e giochiamo insieme. Per liberare la fantasia? Sì, che loro hanno a BZF, insomma, quindi non gli dobbiamo insegnare niente, soltanto non bisogna di stare insieme e sperimentare, certo, e di sentire che quello che fanno è bello e anche per noi, insomma, ha un'importanza. Insomma, ci divertiamo. La signora Marina ha sempre avuto il pallino della cucina, è una grande esperta culinaria, ha queste ricette, insomma, una tradizione che voleva portare avanti e ha avuto anche una bella idea di coinvolgere alcune persone vicino a lei. Ce ne parla direttamente la signora. Sì, vicino a casa mia c'è un centro di accoglienza per giovani immigrati africani e ho conosciuto Iero e Adama, in particolare, che avevano voglia di fare qualcosa per rendersi utili alle loro famiglie per mandare un po' di soldini direttamente a casa e non facevano niente tutto il giorno, studiano un po' l'italiano e basta. E allora, niente, ho pensato che da buona emiliana un'idea poteva essere insegnarli a fare la pasta fresca, anche perché qui in Toscana c'è sempre meno persone che la fanno, non ci sono negozi che la vendono tanto specializzati. E così, insieme a un paio di amiche, una romagnola e un'altra ragazza mugellana, abbiamo iniziato a insegnarli a fare i tortelli, a fare i cappellacci con la zucca, le tagliatelle, utilizzando ingredienti, però tutti di alta qualità. Perché comunque la qualità è importante, soprattutto quando devi vendere direttamente alle famiglie e vogliono sapere che cosa c'è dentro un prodotto. E quindi abbiamo preso farina biologica, macinata a pietra, da un mulino in provincia di Siena, che è un mulino conosciuto e sicuro, certificato, uova biologiche, e poi abbiamo cominciato con i ragazzi a impastare, a lavorare a mano, chiaramente, la pasta e a insegnarli a vedere anche quando la pasta è pronta per essere stesa, che fa il reticolo glutinico, è una cosa molto bella, interessante, vedere come si trasforma. E cerchiamo di vendere alle famiglie direttamente in modo da, diciamo, garantire, intanto spiegare cosa c'è dentro e poi a garantire anche per i ragazzi quello che producono viene tutto venduto. Comprimenti Marina, davvero un bel progetto. Andiamo a sentire Iero, Iero, com'è stata questa esperienza? Io sono bairo, vengo dal Senegal, quando io venivo qui due anni, questo avviccio, non lavoro più, quando ho visto lei, sempre aiutami per il lavoro con pasta, mi piace il lavoro con pasta, per mandare un po' soldi d'Africa. Senti, ma ti piacciono queste ricette che ti ha insegnato? Marina, sì, mi piace cosa insegnare, per finire Marina, davvero, anche, diciamo, Nicoletta, sì. Quali dei prodotti che avete preparato, avete portato qua oggi? Sì, oggi abbiamo portato dei prodotti che si seccano, eh, pasta secca, perché chiaramente in un mercato la pasta fresca ripiena non è adatta. Abbiamo portato, diciamo, uno dei nostri prodotti più significativi, perché è legata alla tradizione mugellana, sono le tagliatelle alla farina di marroni, del marron buono del Mugello, che prendiamo dai nostri amici che seccano le castagne e fanno la farina. insieme alla farina di castagne nella ricetta c'è semola di grano duro e questa è una ricetta che va bene anche per i vegani, perché non ci sono uova mescolate e quindi non ci sono prodotti di origine animale. Un altro, invece, sono le tagliatelle classiche all'uovo, fatte con farina, invece, tipo 2, un po' grossa, di tipo biologico, abbiamo detto, macinata a pietra e lo stesso con uova biologiche. Un'altra nostra specialità sono le tagliatelle oppure le farfalline con l'ortica. L'ortica la raccogliamo nei campi vicino al bosco dietro casa e la lessiamo noi e la mescoliamo con la farina e le uova. Oppure, se la vogliamo fare vegano, facciamo senza uova con la semola di grano duro. Abbiamo anche le piadine da buona romagnola. Sì, le piadine sono di due tipi anche quelle. Le facciamo sia normali, bianche, che con la farina di marroni e quelle con circa un 25% di farina di marroni sono buonissime con tutti i salumi perché quando si scioglie e si scaldano un pochino e si scioglie un po' il grasso del salume mescolato al dolcino della farina di marroni sinceramente da buon gustai. Con questo progetto anche sociale, soprattutto sociale, sei riuscita a far conoscere la tradizione della buona pasta, della pasta fresca fatta in casa. Hai delle prospettive future? Ma veramente le prospettive future sono per i giovani. Io insomma sono un po' già passatella diciamo in questo senso. cosa fare per questi giovani? Hai un sogno? Ma il sogno nostro è quello veramente di poter fare una produzione e poi chissà forse un giorno poter produrre anche in Africa. Aprire un ristorante a Bamako oppure un ristorante di pasta a Dakar. Questo è il sogno dei ragazzi. Ragazzi che hanno imparato ad amare questa pasta della nostra tradizione. È buona? Sì, questa pasta è buona perché lavoro con questa pasta di casa, casa di Marina tagliatelle con le patate farfalle di rotticchie e tutto il lavoro con la casa di Marina davvero mi piace con questa pasta. È bello cucinare ci ha detto Marina che siete stati dei lavoratori instancabili. Sì, lavorare e cucinare mi piace cucinare perché cucinare con la tua pasta a casa e anche il riso sempre. È appena iniziata appunto la raccolta del marrone e ovviamente è presente alla fiera poi qui tra l'altro abbiamo un marrone pregiato un marrone che ha anche ottenuto l'IGP. Sì, riconoscimento IGP riconoscimento europeo indicazione geografica protetta da una ventina d'anni questo marrone è conosciuto per questo marchio conosciuto nel territorio da secoli perché già si pensa in epoca romana il versante in questa zona versante appenninico tosco romagnolo era pieno i boschi erano pieni di marronete e ora chiaramente ha questo marchio che lo valorizza nella commercializzazione del prodotto fresco. quali sono le caratteristiche di questo marrone allora il marrone IGP Mugello è un marrone naturalmente dolce è un marrone che è ricco di sali minerali di potassio di magnesio insomma ha delle caratteristiche organolettiche importanti ed elevate voglio ricordare che col marrone si fa i marroni si fanno seccare si fa un'ottima farina che poi viene utilizzata nella pasticceria viene utilizzata per fare tagliatelle anche ha svariatissimi usi e ricordo che la farina di marroni come la farina di castagne è un prodotto molto importante per i ceriaci perché è assolutamente priva di glutine essendo un seme un frutto e non un cereale ovviamente ecco quindi questa caratteristica la rende importante per questo tipo di alimentazione di chi ha bisogno di non mangiare glutine dove e come si produce? allora il marrone IGP Mugello viene coltivato nel basso Mugello nella zona che va da San Godenzo Londra fino a Borgo San Lorenzo e per quanto riguarda l'alto Mugello il versante diciamo proprio tosco romagnolo che guarda la Romagna nei comuni di Marradi Palazzuolo e Firenzuola l'area è piuttosto vasta ma è ben definita perché c'è un disciplinare che definisce la produzione IGP Mugello a cui si devono attenere i produttori che sono iscritti a questo registro ecco con la farina di Marroni di Mugello peraltro si possono fare tante buone cose certo la farina si può usare anche a casa appunto come dicevo prima per fare i biscotti nel pane il classico castagnaccio noi poi come azienda agricola abbiamo voluto valorizzarla maggiormente facciamo produrre sempre in Mugello birra con la farina di Marroni in Italia esistono anche birre alla castagna però con la farina di Marroni ci siamo noi in Mugello facciamo cantucini abbiamo anche sperimentato questo che sta avendo successo un cioccolato aromatizzato alla farina di Marroni con una percentuale di farina di Marroni un cioccolato fondente un preparato per cioccolata in tazza cantucini tradizionali con la farina di Marroni che si sposa bene con le mandorle e anche una versione con le gocce di cioccolato insomma ci siamo un po' sbizzarriti anche la pasta ecco abbiamo fatto fare presso una cooperativa sociale che lavora con il disagio è un pastificio che ha questo progetto sociale fa per noi della pasta con la farina di Marroni tagliatelle fusilli gnocchetti al palazzo come risultano? riscuotono successo stiamo facendo diversi mercatini nella zona anche in qualche altra regione sono apprezzati la gente è interessata un po' alla novità incuriosita e diciamo che sono molto apprezzati ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti